Sequestrati a Gabice Mare articoli di bigiotteria privi dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla legge. Il negozio è stato scoperto dai finanzieri della compagnia di Pesaro nell'ambito dei controlli finalizzati al contrasto della contraffazione e dell'abusivismo commerciale. In tutte le fiamme gialle hanno sequestrato 22.345 oggetti di piccola bigiotteria per un valore complessivo di qualche migliaio di euro. Il materiale esposto per la vendita al pubblico era privo delle informazioni esenziali relative alla natura, qualità ed origine dei prodotti, elementi tutti utili a determinare tra l'altro la presenza di materiali o sostanze dannose all'uomo. I finanzieri inoltre hanno contestato al titolare dell'esercizio commerciale violazioni amministrative per le quali sono previste sanzioni pecuniarie fino a un massimo di euro 25 mila. L'operazione rientra nel quadro delle attività svolte dalla Guardia di Finanza a contrasto della commercializzazione di prodotti che possono recare danno alla sicurezza e alla salute del consumatore.